Italia ed Etiopia condividono la necessità di affrontare insieme le sfide come la lotta alla pirateria e al terrorismo nella regione del Corno d'Africa. Lo ha sottolineato il ministro degli esteri Giulio Terzi al termine di un incontro alla Farnesina con il vice premier e ministro degli esteri etiope Alemarian de Salegne. Il tema della pirateria nell'oceano indiano è stato affrontato sia in riferimento alla conferenza internazionale di Londra sia per l'episodio dei due marò italiani trattenuti in India. Abbiamo condiviso le esigenze di affermare sul piano internazionale il principio dell'immunità dei peacekeepers che operano nel quadro delle risoluzioni dell'ONU, dei militari che sono impegnati nel quadro delle risoluzioni dell'ONU, di affermare questo principio di immunità e di giurisdizione nazionale applicabile come principio veramente di carattere generale che è ampiamente riconosciuto ma che merita di essere affermato. Sul fronte dei rapporti bilaterali Terzi ha parlato di relazioni speciali che si sono sviluppate nell'ambito dell'accordo del 2004 che portò al riconsegno all'Etiopia dell'obelisco di Axum. Oggi, ha aggiunto Terzi, è iniziato un percorso per dare più vigore ai rapporti economici. L'Etiopia è diventata una terra di investimenti, ha spiegato De Salegne, parlando di economia emergente e in rapida crescita verso la quale l'Italia può investire facilmente per l'amicizia che ci lega. Proprio per rilanciare le relazioni economiche bilaterali, la Farnesina oggi ospita una country presentation sull'Etiopia, aperta da Terzi e De Salegne, nel corso della quale saranno presentate alle imprese italiane le opportunità di investimento nel paese africano. I lavori proseguiranno domani in Confindustria.